Salve a tutti, benvenuti in questo video dove vi parlerò della penna spia IPR6. Allora, questa penna può scrivere colore nero, vabbè, poi aprendo di qui troviamo Micro SD, rispandibile fino al massimo di 8GB, mini USB. Allora, come funziona? Allora, qui in cima trovate un bottone, tenendolo premuto si accenderà questo radio verde e questo significa che la penna è fatta all'interno. Allora, per scattare una foto basta cliccare velocemente una volta e il led si spegnerà per mezzo seconda e si riaccenderà e questo vuol dire che la foto è stata scattata. Facciamo una prova. Fatta. Invece per fare i video, molto semplice, tenete premuto il bottone, il led lampeggerà 3 volte e il video è già iniziato. Ecco, comincia a lampeggiare lasciate ed ora il video sta tirando. Ogni 2-3 secondi il led lampeggerà avvisando che sta registrando. Allora, per stoppare il video cliccate una volta e lampeggerà 3 volte velocemente e vuol dire che il video è stato salvato. E ora è pronto per fare un altro video e un'altra foto. Per spegnere basta tenere premuto, lampeggerà 3 volte, quando diventa rosso potete lasciare ed ecco che si spegna. Ora facciamo una prova il video. Ecco qui, ora come potete vedere sotto a destra quello che vedete sotto è quello che registra la penna, cioè quello che vede la penna. Ecco qui. Purtroppo come si vede è una brutta giornata, vabbè. Questa è tutto.